alla signoria vostra egregio prefetto della contrada granda s'estriere de malconci palazzo di giustizia terzo angolo a dritta signoria mi rivolgo a voi per denunciare un crimine che si protrae da decenni che dico da centenni anzi da millenni il maschio del quale io mi promuovo come umile ma sincero rappresentante è sottoposto ad una stregoneria che lo rende debole e cagionevole qualcosa di indisibile e sinistro si insinua nella sua mente semplice e si propaga per tutte le sue membra ebbene dopo anni di pratica seguite da un serio remitaggio lo scrivente qui presente è arrivato alla verità assoluta la causa di questo maleficio è una e una soltanto la femmina in tutte le sue forme ed incarnazioni mi rivolgo quindi alla signoria vostra per porre fine a questo abominevole soppruso una volta per tutte mettendo al bando tutte le femmine della contrada e dichiarando fuori legge ogni manifestazione di affettuosità che i deboli maschi si ostinano a perpetrare senza sosta e ripetutamente da parte mia mi metto a completa disposizione della signoria vostra e vi porgo i più devoti e rispettosi saluti servo vostro eccetera 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 aspeta